Una vittoria importante, una vittoria con un risultato largo, serviva per l'entusiasmo di questa squadra che arriva alla seconda vittoria consecutiva? Certo, siamo proprio contenti, abbiamo cominciato l'ultima partita scorsa, abbiamo detto che dovevamo vincere per forza, siamo a 6 punti, siamo scendo piano piano e siamo contenti, come hanno visto l'entusiasmo con le ragazze, abbiamo cominciato. E' così, andiamo con la grinta, con la forza, abbiamo migliorato tanto questi giorni, siamo allenati tanto, tanto tecnicamente quanto tatticamente, ora è lavorare. Parli di lavorare, ti chiedo, è una partita comunque dove tante sono state le cose positive, probabilmente c'è qualcosa da migliorare nella tua testa, ti chiedo su che cosa bisogna lavorare per crescere ancora di più? Certo, io credo che dobbiamo migliorare un po' anche la nostra difesa, abbiamo la parte di attacco, però la nostra difesa dobbiamo lavorare un po' più e è così, lavoriamo quello che manca, non dobbiamo sbagliare tanto il passaggio, un po' di tecnica anche, però dipende dalla squadra, è un po' più difficile, così dobbiamo sistemare questo e andare avanti. Dal punto di vista personale ti chiedo come stai vivendo questo avvio di stagione, tripletta oggi, sei gol in quattro partite, uno scorre niente male, ma questo approccio ad Altamura come va? No, va bene, va bene, però è un'altra partita, no? Oggi è successo tre, però pensiamo alla prossima, devo segnare anche due o tre, e vediamo dai, l'importante è che vinciamo, quello che segna di meno, e vinciamo e basta. Dal punto di vista dell'entusiasmo, parlavamo con Pedroso, quanto è importante questa seconda vittoria consecutiva in campionato, perché arrivare a sei punti dopo un avvio difficile, secondo me anche per un calendario complicato, significa reagire bene? Sì, è molto importante, perché comunque la società ha fatto dei grossi sforzi economici, ma anche noi abbiamo fatto dei grossi sforzi, ci siamo allenati tanto, specie a settembre, poi abbiamo avuto il problema della chiusura del palazzetto, e lì ci ha mandato un po' in tilt, però stiamo continuando a lavorare, vogliamo salire sempre più su, vogliamo salvarci tranquillamente, senza problemi, non mi piace, ho detto alle ragazze, dobbiamo vincere, continuare a vincere, voglio tirarmi fuori dalle sabbie mobili, anche perché voglio aumentare anche la mia rotazione con gente meno esperta, e oggi sono riuscito a farlo, però serve ancora, dobbiamo ancora lavorare, trovare ancora molti sbocchi. Oggi abbiamo segnato tanto, è una cosa a cui ci tenevo, con Rachele abbiamo una scommessa, arrivare a 20 gol, e lei ogni gol che facci lo contiamo noi, però ho detto, noi adesso dobbiamo vincere per tirarci fuori da questa situazione, che all'inizio sembrava un po' critica, però la squadra ha tanta qualità, abbiamo tanta qualità, rotazione corta, però ci stanno mettendo tanto cuore, tanto sforzo fisico, e ne stiamo venendo fuori a testa alta. Prossimo turno, si va lontano da casa, però bisogna dare continuità, perché questo è un campionato dove bisogna muovere sempre la classifica. Sì, questo è un campionato dove non bisogna stare fermi, ho detto, saremo tranquilli quando avremo fatto almeno quelle otto vittorie, la media salvezza è quella, intorno ai 24 punti, saremo tranquilli. Oggi era importante vincere, ho chiesto la vittoria alle ragazze, anche perché è venuto a mancare il padre del nostro direttore sportivo, quindi è stata una giornata anche un po' triste sotto alcuni punti di vista, e ci tenevo alla vittoria. Ancora la vittoria per la classifica, che è stata un po' difficile, anche se con San Michele avremmo meritato un punticino, avremmo meritato. Andiamo a Reggio e andiamo a giocarci la gara anche lì, cercando di speculare qualcosa anche lì. Che valore ha questa seconda vittoria consecutiva, ti chiedo, perché dare continuità è importante al progetto? È molto importante, buonasera a tutti, molto importante e poi è incoraggiante soprattutto per queste ragazze che ci mettono sempre l'anima nel campo. Oggi la vittoria ci aiuterà sicuramente, non soprattutto a livello atletico, sportivo, ma anche e soprattutto a livello mentale. Dal punto di vista della rotazione, c'è da considerare che sono entrati in campo numerosi giovani, la rotazione è ampia, vuol dire che il progetto coinvolge tutte? Sì, abbiamo delle ragazze che provengono dal vivaio, giovanissime, hanno dimostrato di crederci, di impegnarsi, hanno molta dedizione come tutte le altre, un bel gruppo. Il mister li ha messi bene in campo, ha sostituito le persone per farle riposare, oggi è andato tutto bene, devo dire. Si va a Reggio, trasferta lunga, trasferta insidiosa, però bisogna andare con probabilmente maggiore leggerezza perché si è capito che questa squadra i mezzi ce li ha, se la può giocare su molti campi. Sì, andiamo a Reggio con la stessa voglia di vincere, con la stessa voglia di crescere, con la stessa voglia di essere importanti in questo campionato e l'abbiamo già dimostrato dalla prima partita, nonostante le prime due sconfitte. Ma comunque ci abbiamo messo tutto, ci siamo riusciti, abbiamo giocato bene e soprattutto oggi abbiamo avuto i risultati. Voglio infine dire che purtroppo oggi abbiamo avuto una brutta notizia, è venuto a mancare il papà del nostro direttore sportivo Paolo Locapo e si sa che quando si perdono i genitori è sempre devastante. Voglio solo dire da parte di tutta la società e delle ragazze che gli siamo vicini, molto vicini, lo abbracciamo forte a lui e a tutta la sua famiglia.